11. La democrazia non ha nulla a che fare con la libertà. La democrazia è una variabile morbida del comunismo e raramente nella storia dell'idea è stata presa in modo diverso. Hanserman Hoppe, 1949. Filosofo tedesco. 12. La democrazia è come una nave, che invece di essere capitanata da mani esperte è un mostruoso tumulto di mani goffe e ingenue. Socrate, 470 prima di Cristo, 399 dopo Cristo. Filosofo atenese. 13. Ogni tentativo di rendere politicamente un sistema ideologico porta in sé il germe del totalitarismo, cioè la determinazione della pluralità da un unico punto di vista che è imposto da tutti i possibili mezzi a un carattere totalitario. Jean-François Jotard, 1924-1998. Filosofo francese. 14. La democrazia è due lupi e un agnello che vota per decidere cosa mangiare, mentre la libertà è l'agnello, ben armato, sfidando il voto. Benjamin Franklin, 1706-1790. Padre fondatore degli Stati Uniti. 15. Il principio aristotelico della non contraddizione afferma che, una proposizione e la sua negazione non possono essere entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso senso. Questo principio elementare riflette l'inesistenza di un popolo governato e dominante. Ilunga M. Mora, 1968. 1868. Autore spagnolo. 16. Chi rinuncia a una libertà essenziale, a comprare una piccola sicurezza momentanea, non merita, né libertà né sicurezza, e finiranno per perdere entrambi. Benjamin Franklin, 1706-1790. Padre fondatore degli Stati Uniti. 17. Il nemico più pericoloso della ragione e della libertà nella nostra società è il suffraggio universale. Enric Johann Ibsen, 1828-1906. Drammaturgo norvegese. 18. La democrazia non è altro che un potere costituzionale arbitrario che ha sostituito un altro potere costituzionale arbitrario. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. Filosofo francese. 19. La democrazia è una farsa che la massoneria ha usato per far credere a una maggioranza confusa e disorientata che la sua volontà sia fatta e che sia necessariamente buona. La verità è che i principi della democrazia liberale sono falsi e inapplicabili in se stessi. Carlos Abascal, 1949-2008. Avvocato e politico messicano. 20. La democrazia è uno strumento di coercizione che si confronta con la libertà di essere dell'uomo con il diritto di voto, cioè con il diritto di esclusione. È un mezzo usato dal potere egemonico per mezzo del quale si cerca di accoppiare qualsiasi tentativo di liberazione guidato da un leader, con il pretesto che quella libertà individuale è contraria ad una presunta libertà collettiva di una maggioranza democratica per scegliere chi è il leader o no, chi può essere o non essere. Il Lunga M. Mora, 1968. Autore spagnolo.